...interamente la portata è interamente in onda con le immagini, la radio cassone di grado, c'è da sempre, ci sono i vostri sms, ci potete inviare, 335, 699, 999 per te. Ragazzi, quando lo fa questo mestiere qua, deve essere pronto a giocare anche questi messi nel quale tu tiri per l'azienda per la quale lavori. In Albania non sono da un giorno, sono lì ormai da 5 anni. ...allora, miracolo italiano, vogliono che si descriva come, non ci potete sfidare, perché è un problema rivoluzionario, non c'è niente di fine nelle razze. Non significa essere un monocentro, qualcuno ti deve sapere, l'automobile, non è visto. Occuparsi di vivere, delle carce, non essere. Vuol dire, esattere. Azzerateli per 2 anni, dateli per questa cosa, no? Allora, pensate che... Sì, scusate la condizione della voce. Allora, Francesco, spetta fuori, guidami. ...sì? Perché l'Unione Europea è centrale, perché ci sono le decisioni quadro, c'è lo scambio dati, lo scambio di informazioni, tutto grazie all'Unione Europea. ...all'Unione Europea. ...all'Unione Europea, però, non faccio mai per essere tutt'azienda, 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 tutt'azienda... ...all'Unione Europea, che cosa mette sotto inchiesta di questa Europa dal 57 al 2017? Guardi, io metto sotto inchiesta proprio gli ultimi anni di gestione dell'Unione Europea, con il fatto, certamente, c'è stato il problema della crisi economica molto forte, però la crisi economica ha compostato proprio l'accantonamento di quelli che erano i valori fondanti e quindi... ...all'Unione Europea, che era un'acquaio d'annunione, tutte le quei erano i valori fondanti e quindi... ...all'Unione Europea, che era un'acquaio d'…. ...ambi d'acquaio 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 d'acquaio... ...e ... ... ... Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita la pace con te e la gioia in te Amen Fino al primo aprile ti aspettano dieci giorni di pezzi Tutta la sua famiglia, ma lui vuole farle sapere una cosa molto importante tramite noi e cioè che è pronto a diventare papà Che bello Evidentemente è un progetto che hanno da un po' Pronto Eleonora? Sì, sì, sono io Ciao Senti, mi dicono che Angelo è bravissimo a ballare, un ballerino pazzesco È vero, è vero Senti, e te come balli? Ma anch'io benissimo Sono due ballerini, eh? Ah, sono due ballerini Sono due ballerini Senti, Diego te ne intende E' ovvio che siamo le mille miglia lontani dal realismo Al feto tutto ciò non arriva attraverso il senso del gusto Non attraverso la bocca ma attraverso la placenta Ma non siamo affatto in una situazione realistica Dobbiamo sempre tenere a mente che questo è un dispositivo, diciamo Per ritrovare portato Protegga il governo potente, padre, figlio e spirito santo Amin La mista finita, andiamo la pace Il governo potente, e di rinforzare qui ! Non è il governo potente, e di rinforzare qui è un plato Orchè, con il governo potente, e di rinforzare qui l'attrave l'attraio Ho già lo voluto. Ho già lo voluto. Ho già lo voluto. Ho già lo voluto. Gusto di cacao e milk. Già è detto, prodotto dell'anno nella categoria biscotti. Nuovo lo ha che cacao e milk. Mi ha mai detto sono pa- Mai, mai nessuna- Puoi attendere anche la televisione 2.500 euro di supervalutazione Grande! Grazie Daily Nontola Segui il tuo istinto Il Daily migliore di sempre con un'offerta irresistibile E oggi la notizia che mi ha incuriosito maggiormente, ma non so se avete sentito anche voi di questa famiglia che sta facendo il giro per il mondo con i punti presi dall'utilizzo di carte di credito, sapete che siamo tutti massacrati dalle promozioni e questa famiglia lui si chiama Petro Plazzi. Il 25 di ogni mese commemorano l'annunciazione. Perché tanta solennità per l'annunciazione? Perché il mistero dell'incarnazione inaugurando la pienezza dei tempi salvifici,